Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi è il 22 maggio, oggi è l'anniversario della Coppa Campioni, noi 24 anni fa vincemmo la Coppa Campioni, è un ricordo bello, bellissimo per quanto mi riguarda ha vissuto bene, quindi vissuto da bambino, quindi non ancora cosciente di quanto sia stata importante la Champions, bella la Champions, non ancora apprezzabile al 100%, cioè non è stato mai apprezzato al 100%, non so come spiegarlo, il gioco, la tattica, queste cose qua, cioè da bambino, guardi se la Juve vince sei contento, se la Juve perde ti dispiace perché sei bambino, no? Io quando la Juve ha vinto la Champions avevo otto anni, quindi insomma capite da soli che gioia c'è stata, ma mi son reso conto dell'importanza più per la reazione delle persone che mi erano vicino, ora mio papà era a Roma e lui aveva visto quasi tutte le finali, aveva visto, sempre andato in trasferta a vedere la Juve sono tornato nelle parti più importanti, però io mi ricordo a mia mamma che quando ho visto Jugovic segnare la Juve vincere ha fatto un'esultanza pazzesca, anche lei, mia mamma non è juventina, però lei sapeva il momento, quindi, e mi ricordo che mi hanno tirato praticamente fuori tutte bandiere, quello che è, e l'abbiamo cominciato, abbiamo tappezzato un balcone completamente di bandiere, insomma, fu una finale pazzesca, poi se ci penso adesso, rivedendola con calma nel corso degli anni, la prima domanda che mi faceva è come cavolo abbiamo fatto arrivare ai calci di rigore, una partita dominata, dominata, e soprattutto poi pensiero, ma come cavolo abbiamo fatto a vincere facendo tirare rigori a gente a cui non avrei mai pensato che la Juventus potesse far tirare dei calci di rigore, perché con tutto il bene che io volevo Padovano, io non gli avrei mai fatto tirare un rigore in finale di Champions, anche il Padovano che, ricordiamo, è uno dei miei idoli di infanzia, a Pessotto non gli avrei mai fatto tirare un rigore, a Ferrara, che poi alla fine Ferrara è sottovalutato a tirare i rigori, perché Ferrara, dando a vedere, ne ha tirati tutti i pesanti, li ha segnati tutti, perché ha segnato anche il finale di Supercoppa italiana, insomma, è uno di quelli che i gol li ha sempre buttati dentro, quindi, veramente è è inspiegabile, cioè, veramente, quelle cose che ti fanno capire che veramente la Champions è episodica, e noi avremmo potuto perdere una finale dove abbiamo preso letteralmente l'Ajax a pallate, e noi rischiamo di perderla, perché a quel punto lì non la vinci, perché se l'Ajax ai rigori, David, se non sbaglia, probabilmente la pressione ce l'hai te e la perdi, quindi, veramente ragazzi, è stata una partita incredibile, ho visto qualche fenomeno che ha cominciato a scrivere che non bisogna ricordarlo, perché 24 anni, no, bisogna ricordarlo, perché quella è parte della storia, se tu ti fii Juve, non tu ovviamente, ma io parlo di chi, in generale, se una persona ti fa Juve, ti fa Juve anche per quelle notti che sono state passate a soffrire per la squadra, quelle notti fanno parte della nostra storia, così togliamoci subito il dente, capisco anche gli interisti che ricordano il triplete, io non ho nessun problema a sentire l'Inter che ricorda la finale di Champions con il Bayern, perché effettivamente con la Coppa, sì, hanno avuto aiuto il vitrale, quello che vuole però l'hanno vinta, quindi non gli si può dire niente ed è giusto che se la ricordino, per loro è una storia, ovviamente fa parte del loro passato, quindi oggettivamente non non gli posso dire nulla, così come quella del 96, noi l'abbiamo vinta, secondo me non meritandola di più, secondo me quella Coppa lì, addirittura l'abbiamo vinta, come ho detto prima, addirittura rischiando di arrivare troppo in fondo, perché guardano al finale 4 a 1 tranquilli, portare a casa la Champions e basta, invece no, siamo arrivati lì e calci di rigore, ci abbiamo rischiato veramente di non portare a casa il trofeo per, non lo so neanche perché, sinceramente, e quindi niente ragazzi, quindi io credo che sia stato giusto ricordare questa data, assolutamente, fin da bambino al di là di tutto c'è in mente il rigore di Jugovic con i fotogrammi completamente secondo per secondo, il gol, il dilivio che esultava in mutande e niente, quindi insomma è stata veramente una bella serata, una bella emozione e peccato poi non essere riusciti più a, come si dice, a riviverla perché l'abbiamo oggettivamente buttata via, non dico dopo perché io sono sempre dell'idea che Berlino e Cardi sono state due coppe che sono andate alla squadra più forte, io continuo non dare colpe a quella squadra di aver perso quelle due finali perché ci sta, come ci sta, alla fine ci sta anche col Milan perché noi ci ricordavamo il Milan 10 punti di vantaggio in campionato, quello che volete, però col Milan era forte e noi ci siamo trovati, tolto Nedved ma anche senza Tudor, Davids, Tacchini, cioè ci siamo trovati veramente col centrocampo decimato quindi ci stava di, e poi perse i rigori, quindi ci stava comunque quella, io ho qua e ce l'avrò per tutta la vita, se devo dare la colpa alla Juve che ha poche coppe, le coppe che pesano a mio avviso sono quella contro il Borussia e quella contro il Real, quella 96-97, li pesano, li pesano perché io sono convinto che se la Juve avesse vinto le tre coppe che doveva vincere da favorita, cioè quella con l'Hamburgo, quella con Borussia e quella con il Real, noi avevamo cinque coppe dei campioni, è vero che se vincevi con l'Hamburgo non avevi la coppa delle coppe e io ci tengo al fatto che la Juve sia l'unica squadra ad aver vinto tutte le coppe della Confederazione, tutte le coppe UEFA, la Juve è l'unica a aver vinto tutte le coppe della UEFA, però comunque è anche vero che avendo vinto quelle coppe lì che potevi vincere, tu avresti avuto sicuramente cinque Champions, togliamo con l'Hamburgo, lasciamo perdere il discorso dell'Hamburgo, prendiamo solo delle due 95-96-97-97-98 perché sono le due che fanno male, diciamo che fanno più male, e lì effettivamente vincendo quelle due lì tu probabilmente avevi sicuramente quattro coppe campioni che non sono due, quattro, già è raddoppiato, sono già due trofei internazionali in più, e poi molto probabilmente avresti vinto Supercoppa Europea e Coppa Intercontinentale, quindi avresti avuto totalmente in complessivo altri sei trofei internazionali in più, e sei trofei internazionali in più vorrebbe dire arrivare già a 18, cioè già arrivare a 17, in Milan, che per anni è stato il club con più trofei al mondo, ne aveva 18, quindi tu 17, insomma avevi già, non avevi bisogno, come posso dire, non eri così lontano, noi siamo così lontani secondo me per quei due anni lì, quei due anni lì pesano tantissimo, però ricordiamoci con piacere quella Champions lì, è peccato che quella squadra lì sia stata decimata l'anno dopo, e l'anno dopo alcuni di questi giocatori, tra cui Paolo Soso, ci hanno alzato l'acqua qua in faccia, questa è una delle cose che mi fa più nervosire. Ragazzi, chiudo qui il video, ricordiamoci sempre questi momenti, io non vedo l'ora che si torni a giocare, per provare a raggiungere altri obiettivi e arrivare ad altri momenti, a differenza di quello che la gente possa pensare, io queste emozioni che ho provato per la Champions, le provo anche per i campionati, nel senso che ci sono dei campionati che mi hanno creato le stesse emozioni che vince la Champions, anzi ci sono stati dei campionati nel mondo più sentiti, il campionato 97-98 allora aveva più visualizzazioni al mondo, era più visto che la Champions, perché era un campionato veramente sentito, quindi diciamocela soprattutto, ci sono dei tornei che sono semplicemente belli da vincere e vanno ricordati tutti, dal campionato alla Coppa Italia, alla Supercoppa italiana, perché sono state delle Supercoppa italiane che sono state vere e proprie godurie, io aggiungo anche che ci sono stati dei trofei amichevoli, che vincerli è stato bello, perché vincere il mondialito allora non era un trofeo amichevole, ma era un trofeo veramente importante, quindi io credo che la Juve faccia bene a ricordare tutte le coppe e tutti i campionati vinto, soprattutto in questo periodo dove siamo praticamente fermi, quindi, e niente ragazzi, io non vedo l'ora di vederli giocare ancora la Juve, mi manca la Juve ragazzi, mi mancano le Juventus Women, mi manca la Juventus André 23, mi manca la Juve primavera, mi manca la Juve, è vero c'è la Bundesliga, ma io sono Juventino, oltre la Juve non vedo niente, cioè a me mi fa vedere una finale, io l'anno scorso la finale di Coppa Italia l'ho intravista, ma non me ne fregava nulla, perché non c'era la Juve, cercate di capire, io se non c'è la Juve non guardo, non me ne frega più niente, cioè, io poi è chiaro, non c'è proprio niente da vedere, mi guardo anche, ma se non c'è la Juve, ragazzi, mi perde il fascino del calcio, io non sono amante del calcio, io amo la Juve, è una cosa diversa, e quindi speriamo di poter rivedere in fretta la Juve, perché ci manca a tutti, eh? Vai ragazzi, io vi saluto e vi do appuntamento per il prossimo video del canale, ciao a tutti!